Gipro, che è un marchio relativamente nuovo in Italia, è nato nel marzo del 2010, anche se l'azienda, prima come BPB, acquisita a Sengoben, è presente sul mercato italiano da 25 anni, stati i primi in Italia. La nostra filosofia è quella di dare una reale contribuzione all'interno delle abitazioni, cioè noi siamo degli specialisti dell'interno, con sistemi secchi e con l'intonace base gesso, quindi con materiali naturali, totalmente riciclabili e ecosostenibili, che permettono delle rese, sia in termini di acustica che di efficienza termica, molto superiori. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare un reale contributo con le nostre innovazioni a cambiare e migliorare il modo di progettare gli interni degli edifici. Quest'anno abbiamo deciso di presentare, sia nella fiera, sia nell'ultima esposizione che abbiamo fatto, delle innovazioni concrete, pratiche, che si possono trovare, che vanno nella direzione di migliorare la qualità del vivere negli ambienti, quindi questo è un esempio di utilizzo dei sistemi a secco nel raffrescamento radiante, e per ridurre l'inquinamento interno negli ambienti, quindi abbiamo presentato sul mercato un nuovo sistema esclusivo a livello mondiale, che si chiama Active Air, che permette di ridurre i VOC di oltre 70%. Questo perché crediamo moltissimo nel sviluppare, innovare, soluzioni che non siano compartimenti stagni, pensate che l'80% del nostro tempo lo passiamo al chiuso, e quindi riteniamo opportuno per chi si occupa di materiali per edilizia dare un contributo reale per migliorare appunto il vivere negli ambienti chiusi. Riteniamo che il mercato si stia frammentando, nel senso che ci sono ottime opportunità per una qualità migliore, e non si può più continuare a fare le cose come si facevano prima, quindi in questo senso è un'opportunità la crisi perché ti costringe ad evolvere.